Salve io sono Pio e bentornati nella mappa Parkour Limbo Signori come potete vedere dalla intro ma anche dal posto in cui ci troviamo Non ci troviamo nello stesso posto dell'ultimo episodio Infatti ci troviamo in un posto completamente diverso e anche un livello completamente diverso Infatti nell'ultimo episodio ci eravamo lasciati nel livello 25 se non sbaglio Dove c'era l'alberone gigante E poi io ho registrato il livello dove molto bestemmiando ma proprio tanto Tanto proprio apparecchio o tanto 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 Sono riuscito a finire il livello 25 e vi giuro che salire su quel cazzo di albero è stato inferno Solo che poi il video si è corrotto Perché si è interrotto il programma di registrazione di Nvidia a fine video Non mi veniva video va bene ok lasciamo stare A fine video quando ho interrotto la registrazione si è corrotto il video Quindi mi usciva tipo un video registrato ma non si vedeva nulla non si sentiva nulla Durava tipo due secondi Quando io ci ho registrato non lo so due ore come minimo Perché è stato un casino superare quell'altro livello di merda Ma vabbè questi sono dettagli Poi ho fatto un altro video O meglio pensavo di aver fatto un altro video in cui ho fatto il livello 26 Anche questo bestemmiando perché c'è tipo una parte Tipo qui sopra dove ci sono dei blocchi Non so se vi ricordate verso il livello 12-13 Tipo che c'era quel mostro fatto di blocchi marroni che ci inseguiva Ecco qua c'era tipo una specie di vermoni che arrivavano nell'acqua Quando ci dovevamo saltare sopra per passare tipo da un punto A a un punto B Dove c'era una porta Ed è stato un po' bestemmioso perché comunque era abbastanza difficile saltare su sti cosi di merda Però alla fine ce l'ho fatta Solo che come vi ho detto pensavo di aver fatto un video E invece no Non avevo registrato Anche perché comunque stavo abbastanza incazzato Dal fatto che si fosse corrotto il video del livello 25 E quindi ho iniziato ad andare bello spedito avanti E convinto di stare registrando E invece nulla Comunque come vedete qui in mano ho un libro Perché qui sopra Esattamente su questo blocco C'era un pulsante che io ho visto proprio di sfuggita L'ho cliccato e mi ha dato questo segreto Cioè mi è uscita tipo una scritta al centro dello schermo Dove c'era scritto hai scoperto un segreto E mi ha dato il libro della morte Quindi abbiamo il libro della morte E c'è scritto Dropping this item will kill a random player Including yourself Quindi se noi tipo lo droppiamo Ci ammazza E che senso ha? E che senso ha? Scusa Ma ma non ha senso Grazie del segreto Però non mi sembra che è utile Ma vabbè Comunque Dettagli Ora signori Io so che voi magari avreste voluto vedere Porca ma non Siamo insieme al giamalissimo Comunque dicevo So che magari vi sarebbe piaciuto vedere Il livello 25 E anche il livello 26 Solo che so io quanto ci ho bestemmiato Per superarli Soprattutto il livello 25 Che sul cazzo di albero maledetto Erano tutte scalette Scalette e angoli Tutti i salti fatti Con le scalette di merda E dove bisognava saltare Sopra le scalette Dietro l'angolo E un casino Maledetto Creatore della mappa infame Bastardo E quindi sinceramente Non c'ho un cazzo voglia Di rifare quel livello Comunque adesso ci troviamo Nel livello 27 Come potete vedere Non mi sembra Particolarmente difficile A parte Sti salti di merda Con sopra i blocchi Che Quando ci abbiamo Blocchi in testa E' sempre un casino saltare Ma secondo me E' abbastanza Fattibile Porco cane Maledetto Dai secondo me Ce la possiamo fare E' tipo Mi devo molto concentrare Ma secondo me E' fattibile Vi ricordo Come al solito Oh ce l'abbiamo fatta Adesso però Ce la dobbiamo fare A fare questo Oh cazzo ce l'ho fatta E' ok E' no Ok bisogna andare da qui Vediamo dove ci porta Oh cazzo Porca puttana ce l'ho fatta Ok sicuramente dobbiamo entrare qui Infatti E' non mi ricordo cosa vi stavo dicendo Boh Non mi ricordo Che vi stavo dicendo E' oh cazzo Mi sta andando bene Oh cazzo Oh cazzo Oh cazzo Oh cazzo Oh madonna Ma sono fortissimi Oh porca madonna Mi sono tirato i piedi malissimo Però me la sono gufata Proprio tanto 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 E mi devo rifare Tutta questa parte Oh cazzo Meno male che Ce la sto facendo subito A farla Ma se le bestemmie Porca puttana Ok Ok mi sta andando Decisamente bene Madonna Santissima Oh cazzo Ok 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 Eeeh Allora scaletta Slime Slime Penso fine del livello Suppongo Ok 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 No No non ci credo No No che cazzo Dici Dai Ma porca Ma come Non è possibile Beh Pensavo fossero fatti apposta Cioè non pensavo di dover fare Miracoli per arrivare lì Cazzo ho detto Una volta che l'ho preso Cioè ci vai sicuro Porca puttana Che coglioni Vaffanculo Poi che cazzo è che mi impedisce Qui di passare Non ci sono manco blocchi Almeno non si vedono Le linee di demarcazione Dei blocchi Vaffanculo Comunque a me Non mi sta venendo in mente Cosa vi stavo dicendo prima E volevo finire il discorso Ma rip Non lo finirò mai Fatto sta che comunque Questo livello Non ci sembra particolarmente difficile Non mi sembra particolarmente difficile Sono riuscito ad arrivare lì Abbastanza facilmente Ora so già che bestemmierò Perché non riuscirò più A fare questi salti Che ho fatto fino a destra Infatti come vedete Sto sbagliando Ma questo ormai succede sempre Comunque signori Io spero Che non mi succeda più nulla Adesso prima di iniziare Il video Ho controllato Perfettamente Che stia registrando Spero Non si corrompa di nuovo Il video Ma porca madonna Non c'è Come cazzo Ho fatto accadere Spero non si corrompa Nuovamente il video Alla fine Credo sia un problema Dovuto all'aggiornamento Di Windows Che hanno fatto Perché ho visto Che stanno avendo Particolarmente problemi Le persone che usano Windows 11 Che hanno fatto L'ultimo aggiornamento Ovviamente io l'ho fatto Perché sono stronzo Non aspetto mai Che vengano aggiornati Un po' di computer Che si sappia qualcosa No io preferisco Da bravo Testa di cazzo Quale sono Brava Testa di cazzo Quale sono Aggiornare subito Ma porco dio Seppur io sappia I rischi che si corrono Ad aggiornare subito Windows Perché purtroppo Non è che sia Fatto benissimo Sotto questo punto di vista Porca Dio Porco E ho visto su Reddit Che stanno avendo Particolarmente problemi Soprattutto Lato Registrazione Lato gaming In particolare Che cazzo è successo Perché stava tipo Vibrando la visuale Boh vabbè Allora dicevo Stanno avendo particolarmente Problemi Chi registra Chi stream Ma in generale Chi gioca Soprattutto a giochi Come Starfield Che sono appena usciti O comunque anche Su altri giochi Ora non so se Minecraft è affetto Da questo problema Relativo all'aggiornamento Che poi non ho ben capito Neanche cosa va a colpire Cos'è che va a creare Effettivamente problemi Però io comunque Giocando a Minecraft Non sto notando problemi Di stuttering Di cali di FPS Cioè mi sembra tutto Abbastanza stabile Quindi non credo Minecraft ne sia affetto Però evidentemente Ne sono affetti I software che uso Per registrare Come Nvidia ShadowPlay Per l'appunto E io fra l'altro Vi ricordo che utilizzo Solo perché Mi permette di giocare Senza perdere Porco Dio maledetto Dicevo Mi permette di giocare Senza perdere FPS Mentre registro Mentre registro Solo che ovviamente È un software Un po' limitato Perché se potessi Usare OBS Però vorrei Evitare di perdere Prestazioni Visto che Già così Ogni tanto Ci lagga Minecraft random Soprattutto Nella Cazzo Se possiamo Evitare Meglio Evitare Anche se Ovviamente Se dovessi Scoprire che ShadowPlay Ha problemi E mi va A rovinare Qualche altro Video E in quel caso Forse l'opzione Di usare OBS Non sarebbe Poi così male Ma staremo A vedere Ma porco dio Ma ce l'ho fatta A primo colpo Prima Ma come cazzo È possibile E sono stupido Ma porco cane Maledetto Ma che fastidio Allora signori Vi ricordo come al solito Che questo video Sarà relativamente breve Cioè Rientrerà nei 15 minuti O meglio La registrazione Rientrerà nei 15 minuti Ma poi come avete visto Forse Dagli ultimi video I video escono Tipo di 13 12 11 A volte 10 minuti Che a me va Comunque bene Perché l'importante È che siano Sopra i 10 minuti Per youtube Perché così Youtube Bastardo Maledetto Ci può monetizzare Di più Cosa che io invece Non posso attivare Perché purtroppo Non ho abbastanza iscritti E abbastanza visualizzazioni Per attivare la monetizzazione Però Sono abbastanza sicuro Che youtube Ci metta comunque Le pubblicità Nei video Perché Giustamente In qualche modo Ci deve guadagnare Per mantenere i server Porco cane Sono tornato qui Oh cazzo Oh cazzo No E dai E dai E però E che coglioni Ma com'è possibile Ma scusa Dai E che cazzo E pure si inizia a rompere i coglioni Poi Ma scusa E che palle Ma fra l'altro Ma come sono fatti Sti muretti Scusa Ma tecnicamente Quando c'è il muretto Non c'è tipo Lo spazietto Ecco tipo così Ecco Visto c'è lo spazietto Perché lì non c'è Che lì è successo A sto muro Cioè c'è il muro strano Abbiamo il muro strano Non lo so Bellissimo Comunque se Oltrone Fatte così Però vabbè Abbiamo Minecraft Strano Aggiornamenti di Windows 11 Strani Il muretto strano Tutto strano Ci abbiamo E vabbè Niente Che vi devo dire Cerchiamo di completare Questo cazzo di livello Maledetto Porca puttana Ovviamente io Come al solito Poi per non perdere Parecchio tempo Visto che Di timer Mancano tipo 3 minuti Ottimo Cerco comunque Di stoppare magari Il timer E cercare di andare avanti Al timer spento O meglio Non andare avanti Ma ritornare Fin dove mi trovo Quindi adesso Facciamo un altro tentativo Vediamo se riesco così Torco il cazzo Dai ma non è possibile Ma porca madonna Che cazzo Vabbè Niente Come vi stavo dicendo Siccome non voglio perdere Troppo tempo E siccome poi Per editare Mi diventa un casino Ritorno lì sopra E poi riprendo la registrazione Da lì sopra Vedendo se Riusciamo ad andare avanti Porco cane Maledetto Bastardo infame Che fastidio Madonna Ok signori Sono tornato qui Sulla scaletta Maledetta Vediamo se ci riusciamo Ma non lo so E infatti Porco dio Maledetto Ma poi perché prendo danno Ma prima non ho preso danno Cioè almeno non credo Perché adesso si Che è cambiato Ma vabbè Niente Ritorno lì sopra Vediamo se ce la facciamo A fare sto cazzo Risalto Maledetto Cioè non mi sembra così difficile Cioè devo andare qua E poi devo fare Wa E poi da wa Devo fare We E quindi Wa Wa Cioè non è difficile Che cazzo Porca Porco chi so io Porco Vabbè niente Ci vediamo lì sopra Ok sono nuovamente Qui sopra Maledizione Vediamo se ce la facciamo A sto giro Ok Ok Porco dio Ma come è possibile Ma che cazzo Devo fare qualche Non lo so Qualcosa di Di particolare Non sto capendo io qualcosa Cioè non mi sembra così difficile Cioè guardiamo da lontano Lì c'è la scaletta A uno Due Tre A quattro blocchi di distanza C'è il blocco su cui saltare Cioè teoricamente non dovrei neanche correre A sto giro Corso Come cazzo è che poi non riesco a fare A mecciare Cioè a mecciare A prendersi cazzo di cose E saltare di lì Ma porca puttana Cioè Non mi sembra particolarmente difficile Ma che cazzo Comunque vabbè Ce la dobbiamo fare Perché alla fine Se quella è la fine del livello E lì c'è il livello 28 In questo episodio Sto livello lo dobbiamo finire Vuoi non vuoi Anzi Non voglio Però devo Lo devo fare E quindi vabbè Niente Ci rivediamo qui sopra A dopo Che palle Che vi devo dire Che palle Ok Sono nuovamente qui Vediamo se A sto giro Ce la facciamo Porco Dio Ma perché Come si fa Perché Perché Ma io non capisco Ma vi giuro Fra l'altro io qui dietro C'ho una lampada Vabbè Voi non la vedete Se avessi la webcam La vedreste Però dietro di me C'ho tipo una lampada Che funziona A rumore A suoni A ritmo di musica Quindi tipo Essendo RGB Cambia colore In base Non lo so Con le vibrazioni Che sente E quindi Ogni volta che bestemmio Cambia colore Adesso è bianca Prima era Giallastra E quindi niente Sta cambiando colore In base alle mie bestemmie Che bello C'ho la lampada a bestemmie Non credo nessuno abbia Una cosa così Fantastica Io si C'ho le lampade a bestemmie Immaginate se tipo Ci avessi la casa Con tutta l'illuminazione A bestemmie Cazzo Ogni due secondi La casa si vedresti Accesa Spenta Accesa Spenta Fantastico Devo inventare Le lampadine a bestemmie Secondo me ci faccio soldi Vabbè niente E invece di cazzeggiare qui Vediamo di tornare lì sopra Perché sto iniziando A rompere il cazzo E sto livello Soprattutto Lo dobbiamo finire Porca madonna Regà 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 Vaffanculo Vaffanculo Non so se l'avete visto Perché come al solito Io poi faccio le cose in silenzio Quando poi le rifaccio 20 volte Ma veramente Allora Le ho contate Le ho fatto 16 volte Questo salto di merda Per riuscire ad entrare qui Perché porca madonna Sti due blocchi del cazzo Non si riusciva ad entrare Cioè Se stavi attaccato al muro Non c'entravi Ti dovevi leggermente spostare Sulla sinistra Sperando che poi Quest'angolo di merda Non ti dasse fastidio Non ti desse Non ti dava Vabbè Che non rompese il cazzo Ok E riuscire ad entrare Perché se stavi tipo attaccato così Non c'entravi Ma cosa pagavi A parte che Ci vai giusto giusto Quando salti lì sopra Cioè Arrivi all'altezza Precisa Devi riuscire ad infilarti Poi Boh Cose strane Da quando in qua Cioè È tutto libero È tutto liscio Non è che c'è tipo un angolino Che ti impedisce ad entrare No Però se stai vicino al muro No Vabbè Lasciamo stare Comunque ce l'ho fatta Ripeto Non so se Mi ricordo di farvelo vedere Perché dovrei tipo Come si dice Editare Per recuperare La parte antecedente Al mio saltino Qui sopra Però Ce l'ho fatta Vaffanculo Che coglioni Livello 28 E qui c'è una shulker box Wow E altra shulker box Un'altra E fra l'altro Bella che abbiamo La shulker box Con la febbre gialla La shulker box Color La shulker box Color merda Wow Ok Cioè oddio In realtà Quella potrebbe essere Anche la shulker box Cinese Questa tipo africana E quella verde Che cazzo c'è di verde Vabbè Niente Lasciamo stare Evitiamo battute Che non si sa mai che c'è Chiudono il canale Per battute di merda Che faccio E sto esplorando un po' Il livello Cercando di capire Cosa bisogna fare Ma ovviamente A voi ce lo facciamo Nel prossimo episodio Qui ovviamente Suppongo che non ci possiamo andare Infatti Qui c'è un altro punto In cui buttarsi Ma col cazzo Che mi ci butto Anche se lì c'è un cartello Con scritto qualcosa Sarei curiosissimo Di sapere cosa Comunque qui Non si può andare Da nessuna parte Vediamo se magari C'è qualcosa qui dentro Poi ovviamente Non si potrà entrare Infatti Qui c'è un leggio E poi ci sono delle armature C'è Sprayton Sale Now only you save nothing Però io l'ho presa Ok Prendo anche questo E mi metto anche questo Prendo anche questo E mi metto anche questo Gela 24 euro Un elmo di merda E siamo un po' eccessivo Ma poi che c'è scritto Mi è scritto in tedesco Boh vabbè E qui pants Pantaroni Va bene ok Ma lì ci sono tante armature carine Oddio E come faccio a prenderle Non posso E a quanto pare no Vabbè La cosa importante sarebbe capire però Dove si deve andare Non lo sto Ah ok Si inizia da qui Perfetto Però vabbè Senza che proviamo adesso A fare cose strane Facciamo la chiusura E poi ci vediamo Nel prossimo episodio Perciò signori Con la nostra nuovissima E bellissima armatura Dove fra l'altro Il caschetto mi fa sembrare Che io abbia tipo Non lo so I dread Che è tipo stranissimo Non lo so Però sembrano capelli Più che un caschetto O un elmetto Comunque direi che per oggi Ci possiamo salutare qui Tanto un livello Siamo riusciti a farlo Abbiamo fatto più che abbastanza Ripeto che mi dispiace Ma io ho intenzione di rifarli Non ne ho Perché non mi voglio Esasperare ulteriormente Perciò come ho detto Per il video di oggi è tutto Se il video vi è piaciuto Mettete like Se non vi è piaciuto Mettete dislike Ma commentate dicendomi Cosa non vi è piaciuto In modo tale che possa migliorarmi Se vi sto simpatico Iscrivetevi Magari attivate la campanella Che a me come al solito Non dispiace mai E noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao 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 Ciao